alessia perché siete qui esattamente noi qui facciamo le nostre attività scout da circa 16 anni quindi curiamo l'educazione dei bambini dei ragazzi anche fino all'età adulta e quindi facciamo il possibile affinché questi ragazzi poi siano buoni cristiani e buoni cittadini questo era un posto totalmente abbandonato che c'è stato dato da Don Claudio tanti anni fa e quindi poi con i nostri mezzi e con l'aiuto delle famiglie soprattutto l'aiuto delle famiglie attività di autofinanziamento siamo riusciti a bonificarlo e quindi a poter svolgere le nostre attività con serenità. Qual è la questione che vi contrappone al comune il fatto che il terreno su cui sorge il capannone non appartenga al comune ma alla diocesi come tenterete di risolvere la questione? Noi ci affidiamo adesso alla diocesi e alla parrocchia quindi aspettiamo da loro queste queste risposte siamo sicuri che la parrocchia ci tutelerà in questo perché già ci ha rassicurato e ci fidiamo di Don Carmine come parroco. Questa questione sarebbe dovuta essere risolta molto tempo prima invece in realtà abbiamo noi adesso smosso le acque e abbiamo puntato un po' i piedi e quindi proprio nel pomeriggio ci sarà un incontro per capire e definire questa cosa qui. Grazie.